Quabara e con tre Heini, una formazione ospite, buona a Fischio Mekardi. E' attivissimo, ha avuto palla. Macchi, Macchi! La bomba, shotgun, boom boom boom. Può spingere, può spingere. Ci sono certi comunque episodi che ci danno anche un po' contro, perché c'è di vianesti fortunosi. Il sesto non sono arrivati invece a noi. Vuole dire, sono quelle partite che sei destinato a coprire qui in fondo. Pastore? Sì, Chiara Pastore! Ha esitato, poi ha visto che ha avuto quei centimetri devastanti. Più 2, 4 e 36. Il giocatore le sente queste cose. Chiara Pastore ancora ci trova? Mamma mia, devastante Chiara. Questa è l'altra. Sì, questa è l'altra. 61 a 57. Attenzione adesso, difesa, difesa. Guarda, 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 guarda. Brava Erkic, brava Erkic, ha fatto una difesa stupenda. Questa è una palla che può cambiare la partita. Pastore! Chiara! 7 a 0. Le va a chiamare il pubblico. Parziale. Credo che sia una decisione della... Sì, sì, ma stai scazzando. No, Jacopi, cosa fa? Sì, va! Guarda, guarda. Anche lei ha preso il coraggio quattro manche da sfruttirsi. Machi. La cover è in balzo. 54-48. 6 punti da difendere. Vediamo se la classe immensa di Kika va. e fare un posto posto lei. Se no, non può difendere. Guarda, tre. Intanto rimetterla adesso, intanto. Vai, che passa un secondo. Kika, Kika. Kika Machi! Attenzione, attenzione, attenzione! Attenzione! Niente, niente, è finita, è finita. 71-69. Con un calestro di Kika Machi. Mamma mia, quanta paura. Onore al Gers. Sì, sì. Veramente, guarda. È come se avessero vinto il Vite 2, ma non forse. Potrebbe scegliere in famiglia di farlo il fallo. Adesso, scuola, sai cosa farai questi 22 secondi? Ne ha 24. Ne ha 24. Ok, può tenerla fino a... Sì, bisogna vedere come vai. Fino alla fine.